Grazie a tutti Allora, li premiamo come migliori in campo della serata, della gara Che ne pensate del torneo ragazzi, come vi state provando? Bene, è un bel torneo, siamo una bella squadra Il prossimo anno veniamo a vincere Basta pure stare, noi ci stiamo Ok, le nostre ragazze li premiamo con due plisette in prea Dei kit di primo soccorso Complimenti, bravissimi, bocca al lupo Grazie Siamo qui al Gradior del Certosa dopo la partita Dynamo Kiev Celtic In cui la Dynamo espugna il risultato con un gol di Ostaf Palagnac Emozionato per questa vittoria Sì, molto, molto, grazie E vince il premio come migliori in campo E vince il nostro fantastico mini kit di primo soccorso di Plea Complimenti Grazie, grazie Un bocca al lupo Un bocca al lupo Ciao dal Gradior Buonasera dal Gradior Certosa Ancora qui con la Roma Vincitrice anche questa sera Ormai sta diventando un'altra ennesima cavalcata trionfale E premiamo come migliori in campo Santa Croce Autore Leonardo Pietta e Galizzi Portiero ormai storico della formazione giallorossa Di Torpignattara Li premiamo con un preset dell'Implea Un kit di primo soccorso Che comunque può risultare utile in questi tornei invernali Grazie mille Grazie a tutti E forza Roma Grazie Complimenti e bocca al lupo